Buongiorno a tutti, vedo che siete numerosi e questa cosa fa molto piacere a tutta la scuola e agli allievi soprattutto, che in moltissimi, come vedete, di opere ci sono veramente tante, molte e belle. Quest'anno abbiamo variato rispetto alle altre cittadini e allievi degli anni precedenti. Il tema del concorso è stato scelto dagli allievi stessi su una serie di titoli a votazione, era stato scelto il tema di immagini di un sonno.